Il Bistacciolo è il nuovissimo dolce presentato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero dei Panfilis di Roccaraso. La presentazione del dolce è venuta domenica scorsa, nell'ambito del Roccaraso Fashion Week, la settimana bianca del design della moda, rassegnata con la specifica volontà di promuovere nuovi talenti, offrendo loro svariate e realistiche possibilità di visibilità con concreta crescita professionale nel settore del design della moda. Gli studenti dell'Alberghiero di Roccaraso sono loro quindi prova delle capacità, delle competenze acquisite, presentando un nuovo dolce, rappresenta la perfetta integrazione della tradizione territoriale e della innovazione. La ricetta è quella tipica del mostacciolo, rivisitata perché il bistacciolo, nella forma di piccola piramide sormontata da una cima di cioccolata bianca, ricorda le cime innevate delle montagne abruzzesi che fanno da cornice allo splendido paesaggio invernale di Roccaraso. Il bistacciolo, bisticcio saporito tra tradizione e innovazione, è stato presentato dalla dirigente scolastica Cinzia D'Altorio, dai docenti Giorgio Aprea e Giuliano Villani, che hanno guidato gli studenti nella realizzazione del nuovo prodotto. Sabato, infine, la scuola è stata insinita del prestigioso premio Fiocco di Neve Città di Roccaraso, un premio al merito e al valore.